... Capisco anche però che... ... come dire... ... questo aspetto della storia della Shoah, che è l'insegnamento della Shoah, da sempre, da sempre è all'origine dei primi corsi di ragionamento insegnanti, noi abbiamo fatto insieme corsi di ragionamento insegnanti negli anni, alla fine degli anni Ottanta, con Anna Sgerri, non so se qualcuno di voi se la ricorda, la cara Anna che è mancata non molto tempo fa, e che è una persona eccezionale all'interno del ministero, grande storica, grande patita poi della didattica della storia. Bene, Fabio ha lavorato moltissimi anni con un'altra persona che qui ricordo e che è nei nostri cuori ed è la prof Chiappano, che è mancata in un modo così veloce, Alessandra Chiappano. E proprio con Alessandra Chiappano Fabio ha fatto un testo molto bello, dalle valenze didattiche notevoli, vuoi dire tu che testo è? Sì, l'avrei citato di qui a breve, è una collezione di fonti, si chiama Shoah, semplicemente Shoah è pubblicato da Inau di scuola e contiene fonti divise per argomenti con introduzioni, cioè l'antisemitismo, i ghetti, la Shoah in Italia eccetera eccetera, e fra l'altro, ripeto, l'avrei detto di qui a breve, è uno strumento credo didatticamente molto utile. Comunque siamo partiti da un aspetto che aveva a che fare con il vostro lavoro, con la didattica, cioè quello del professor Magnaggi stamattina e concludiamo oggi con la didattica della Shoah, avendo fatto un passaggio fra la storia e l'opinione in questo caso relativamente al negazionismo. A te Fabio. Allora, 40 minuti e domande, abbiamo fatto leggermente di più. Il testo si chiama Shoah, documenti, testimonianze e interpretazioni ed è pubblicato da Inau di scuola e ancora in catalogo. Ne parlo perché tanto non ho nessuna royalty né niente, quindi mi faccio propaganda diciamo gratis. Allora, io ho intitolato il mio intervento che parlerà di didattica, domande e riflessioni, perché ho pensato di strutturarlo attraverso delle domande che io ritengo poi ci confronteremo e voi mi direte, sono le domande con cui noi insegnanti, alcune delle domande quantomeno ci troviamo a doverci confrontare quando parliamo della Shoah. E io non ho delle risposte preconfezionate da dare, ho delle riflessioni da proporre per ognuna di queste domande. La prima è la domanda più generale che si possa immaginare, cioè perché, si vede? Sì, io non sono bravissimo a preparare i file in PowerPoint, speriamo che vada. Perché insegnare la Shoah? Allora, io credo che la Shoah sia, come ho scritto qua, un nodo irrinunciabile nella storia del Novecento, vorrei dire della storia Tukur, perché ci fornisce una chiave di lettura, una lente focale per pensare e analizzare criticamente la contemporaneità. Oltretutto, e penso che su questo concorderete, lo studio della Shoah è una straordinaria occasione didattica per quanto riesce a suscitare negli studenti. Dicevo una chiave di lettura per la contemporaneità. Allora, come ha scritto Hobsbawm in un libro molto famoso, sul secolo breve, proprio una delle caratteristiche peculiari del Novecento è certamente la violenza. Fra il 1915 e il 1980, guerre e scontri hanno provocato quasi 190 milioni di morti e da questa statistica sono escluse la guerra nell'ex Yugoslavia, il genocidio ruandese, la guerra del Golfo. Bene, Auschwitz poi, in questo modo... Cos'è successo? Sì, sì, no, adesso man mano li... Dicevo, paradigma della barbarie novecentesca, il confronto fra la Shoah e altri crimini, ne definisce le peculiarità, ne documenta la singolarità e stabilisce al contempo una tipologia preziosa per l'analisi storica, per noi che insegniamo storia. Ecco, c'è da dire, credo che anche questo lo condividerete, che molti manuali di storia, mi verrebbe da dire quasi tutti, non ci offrono un grande supporto da questo punto di vista, perché questo argomento è confinato di solito in una scheda, in una finestra, nell'ambito della trattazione della seconda guerra mondiale, c'è poco e a volte non c'è neanche più di un accenno. Quindi vedrò magari dopo di di proporvi alcune integrazioni didattiche possibili alla pochezza su questo tema di molti dei nostri manuali scolastici. Tuttavia, vedete qua una frase sotto, mi permetto di citare, ed è l'unica citazione che farò, prometto, Alberto Cavaglione, uno studioso di cui vorrei caldeggiare da parte di tutti, se non lo conoscete, la lettura, perché ha scritto tante belle cose, proprio sulla didattica della Shoah. Lui ha scritto che presentata in classe la Shoah, disarticolando il consueto rapporto docente-alunno, sviluppo opportunità che non esito, scrive Cavaglione, a definire mirate straordinarie. Ogni insegnante che abbia lavorato ad un progetto sulla Shoah sa bene che fra tutti gli argomenti della contemporaneità, questo è forse l'unico capace di accendere, sia pure per un solo istante, un dialogo, o anche solo una scintilla di dialogo. Ognuno avrà constatato che almeno all'inizio del cammino, leggendo un libro, ascoltando un supersite della Shoah, si crea una condizione che non esiterei a definire magica, scrive Cavaglione, e io concordo appieno, nel senso che ci offre questo argomento un'opportunità didattica formidabile. Io credo che sia un'opportunità che non deve essere sprecata. Quindi da un lato, da un punto di vista prettamente storiografico, come chiave di lettura degli eventi del Novecento e di lettura della barbaria novecentesca. Dall'altro lato come straordinaria occasione didattica che è opportuno non sprecare. Una seconda domanda. Il mio virgolettato qua fa riferimento a quello che, nella mia esperienza di insegnante, oso pensare che sia anche nella vostra, è una domanda che mi è stata rivolta spesso. Perché si studia solo la Shoah? Il che sottintende perché non si studiano in modo altrettanto ampio e diffuso altri eventi in qualche modo analoghi, paragonabili o simili. Allora, è una domanda alla quale io credo noi si debba essere pronti a rispondere. Non è una domanda da bypassare o da evitare. Vorrei brevemente analizzare una questione che è molto rilevante da un punto di vista storiografico ed è al centro di un fitto dibattito fra gli studiosi, ma è rilevante anche da un punto di vista didattico, ovvero è quella della dialettica fra unicità e comparabilità della Shoah. Allora, io credo che nel lavoro dello storico, ma anche nel lavoro dell'insegnante, che in qualche modo non è la prosecuzione sul piano didattico, la comparazione non solo è pienamente legittima, ma è spesso utilissima e ci aiuta a comprendere meglio. E questo vale anche per la Shoah. Però bisogna, ovviamente, comparare come ho scritto qua per comprendere senza mai trascurare il contesto, eccetera. Cioè, non comparare per omologare e comparare per comprendere. Io credo che sia non solo legittimo, ma sia assolutamente positivo, sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista didattico. Allora, questo apre comunque la questione, che è una questione molto importante e molto, per certi versi, problematica, della unicità della Shoah e della comprensibilità della Shoah. Allora, da un certo punto di vista è comprensibile che la Shoah susciti con la sua immensa tragicità una sorta di spaesamento, sia in chi insegna, sia in chi riceve l'insegnamento. Però, a mio giudizio, e è la mia opinione, poi si può anche non condividerla, non credo che questo debba significare, cioè, sottolineare lo spaesamento che questa didattica comporta e l'unicità della Shoah. Non deve voler dire isolare l'evento nel limbo destorificante della sacralità. Cioè, mi spiego, c'è chi lo ha fatto, e molto autorevolmente. Penso a Lee Wiesel, che scrive che Auschwitz resiste agli sforzi dell'immaginazione e della percezione e si sottomette solo al ricordo. Lo stesso Primo Levi ha scritto che la Shoah rimane un enigma di fronte al quale l'accumulazione delle conoscenze non fa che approfondire è il baratro della nostra comprensione, della nostra, scusate, incomprensione. Però lo stesso Primo Levi ha detto che se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Quindi, io credo che unicità non escluda comparabilità e contestualizzazione non significhi relativizzazione. facevano riferimento poc'anzi alle tesi di Nolte e le tesi di Nolte sono tesi relativizzanti perché sono tesi riduzionistiche ancorché non negazionistiche. Quindi credo che la comparazione abbia piena cittadinanza e del resto la Shoah non è un evento sovrastorico fa parte della nostra storia. Pensiamo ad esempio alla vicenda plurimillenaria dell'antisemitismo senza la quale io credo che non vi sarebbe neanche non sarebbe neanche maturata l'ideologia che ha condotto alla Shoah. Pensiamo anche all'idea dell'Ebensraum dello spazio vitale non l'hanno inventata i nazisti esisteva già da prima. Pensiamo alle teorie eugenetiche che avevano cittadinanza scientifica ben prima che i nazisti anzi si erano tradotte anche in misure di legge in molti paesi degli Stati Uniti d'America per esempio. Quindi senza nessuna gerarchia dell'orrore credo che la comparazione sia legittima e che quando gli studenti la richiedono vada fatta. Questo però in alcun modo non deve portare a negare la specificità della Shoah che è definita da molteplici aspetti. Mi permetto di citare tre storici Saul Friedlander il quale dice che un regime che nega per motivi ideologici a uno specifico gruppo umano il diritto di vivere si è avuto una sola volta nella storia moderna e non solo moderna. Cito Yechel il quale dice che è un fatto unica nella storia il voler sterminare un intero popolo pianificandone attuando un preciso progetto genocida. e infine una puntualizzazione a mio avviso molto utile anche dal punto di vista didattico laddove si voglia articolare una comparazione con altri sistemi concentrazionari con altre vicende di sterminio. Enzo Traverso scrive che il genocidio ebraico è il solo nella storia ad aver perseguito il fine di un rimodellamento biologico e è il solo sprovvisto di una natura strumentale il solo in cui l'eliminazione delle vittime non è il mezzo ma è il fine. Io di questo ho discusso con i miei allievi i quali mi hanno più volte sollecitato non so se sia anche un'esperienza vostra a un paragone con il sistema concentrazionario sovietico e io credo che questo sia uno dei paragoni legittimi da farsi però la chiave di volta per rendere questo paragone come dire valido e corretto è per esempio questa quello fu un metodo irrazionale per conseguire un fine che aveva una sua razionalità la modernizzazione la costruzione di ferrovie qui nel caso della Shoah siamo all'opposto cioè è un metodo razionale a volte iper razionale per perseguire uno scopo che con la razionalità in senso lato non ha nulla a che fare quindi è vero che lo sterminio è il fine e non il mezzo o se vogliamo l'effetto collaterale quindi alla luce di considerazioni come queste la comparazione è non solo storiograficamente ma anche didatticamente utile questo è il punto a cui facevo riferimento poc'anzi quando sono intervenuto dopo la relazione della professoressa Pisanti a me è capitato di dover rispondere a questo tipo di domande come si può negare la Shoah è davvero successo smentire il negazionismo spiegare il negazionismo come io chiedevo prima io personalmente ritengo che spesso gli studenti fortunatamente non sanno tutte le alchimie di pseudo pensiero che i negazionisti hanno articolato e articolano però loro vogliono capire come hanno potuto arrivare a negare quello che ai loro occhi fortunatamente risulta più che evidente io credo mi direte se siete d'accordo che la strada da percorrere non sia quella di seguire il negazionismo in queste alchimie di pensiero andare a vedere se ci sono le tracce dell'acido cianidrico piuttosto che se non ci sono quanto ce ne voleva quanto non ce ne voleva io credo che la cosa fondamentale sia fare un riferimento alle fonti cosa vuol dire fare un riferimento alle fonti faccio solo due rapidissimi esempi io ai miei studenti una volta ho portato i dati dell'ultimo censimento svolto in Polonia prima della guerra un censimento del 1931 che dava una popolazione ebraica di 3.137.000 unità mi sono occupato a lungo delle vicende della Polonia post bellica di quanto accaduto in Polonia agli ebrei pochi sopravvissuti e gli studiosi ci dicono che erano circa 90.000 nel 1947 e gli studenti stessi si sono domandati ma che fine hanno fatto tutti gli altri allora è chiaro che i negazionisti come ricordava poco fa la professoressa Pisanti ci dicono che hanno approfittato del caos della guerra però insomma 3 milioni passa di persone è un po' improbabile che siano scappate tutte un'altra cosa io ho utilizzato poi ne riparlerò brevemente in chiusura alcune parti del per alcuni versi discutibile per molti altri versi pregevolissimo film di Claude Lanzmann o Lanzmann alla tedesca Shoah che immagino tutti conosciate non è immune da critiche però secondo me resta un'opera assolutamente di grandissimo pregio beh in quel film in quel documentario c'è un'intervista a Franz Zuchmel che era uno degli SS di servizio a Treblinka il quale si guarda bene dal negare quello che accadeva a Treblinka anzi quasi lo rivendica lo ammette addirittura canta pure le canzoni che imponevano ai deportati di cantare e questo i ragazzi sono rimasti colpiti cioè i nazisti ex carnefici anche se uno resta carnefice tutta la vita non negano e i negazionisti sì del resto voglio dire lo stesso Eichmann non ha mai negato ha solo fatto uno scarico di responsabilità dicendo che lui si limitava ad eseguire degli ordini però non ha detto che quegli ordini non sono stati dati o non sono stati eseguiti veniamo ad un'ulteriore domanda e non voglio sembrare provocatorio ma a me questa è una domanda che è capitato di dover affrontare un mare di volte ho messo questo perché gli ebrei infliggono i palestinesi la stessa persecuzione che hanno subito ho messo ebrei tra virgolette perché così mi viene proposta la domanda a volte mi viene più che proposta mi viene imposta in modo anche piuttosto perentorio cito proprio brevissimamente due fatti personali una volta presentavo la signora Gotti Bauer che è un ex deportata sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz che rendeva la sua testimonianza agli studenti e ero quindi sul palco insieme a lei che poi ha fatto la sua relazione e ha dovuto povera affrontare questa obiezione come se fosse colpa sua non si sa ben che cosa di quanto accade o di quanto si presume accada in in Israele oggi un'altra volta mi è capitato che noi avevamo organizzato una mostra a scuola con dei degli spiegoni e riguardante la Shoah e qualche studente come anonimo mi ha fatto ha fatto su questo spiegone una bella un bel Magendavid una stella di Davide con la svastica stella di Davide uguale svastica del resto lo vediamo a volte nelle manifestazioni non è una gran novità allora è una domanda da non eludere secondo me questa ed è una domanda mi permetto di dire alla quale occorre rispondere con la storia cioè innanzitutto sarebbe opportuno spiegare a chi la solleva che ebrei e israeliani sono due cose assolutamente diverse perché l'omologazione è piuttosto frequente occorre dire agli studenti che le vicende storiche sono molto diverse che in israeli non vi è nessuno sterminio vi è un conflitto territoriale come molti altri ve ne sono nel mondo anche se questo devo dire che è quasi sempre al centro di un'attenzione quasi paranoica da parte dei media dell'opinione pubblica mondiale molto più di altri e anche su questo ci sarebbe poi da interrogarsi a lungo sul perché e va contestualizzato ciò di cui si parla perché se no si fa su come si dice dalle mie parti un risotto che non finisce più ecco un rebelot mi suggerisce Marcello che per noi lombardi vuol dire una gigantesca confusione insomma allora certo si si faccia capire agli studenti che per gli ebrei c'è un rapporto particolare con lo stato di israele è evidente è logico che sia così ma da lì a omologare e a ritenere che tutti gli ebrei del mondo perfino gli stessi israeliani voglio dire debbano essere d'accordo con tutto quello che succede con tutte le decisioni che questo o quel governo israeliano prendono ce ne passa insomma però è una questione ripeto sulla quale mi è capitato molto spesso di dover fare i conti con gli studenti soprattutto i più politicizzati mettiamo così no i quali ti dicono eh però perché loro come dire parlano di quello che è successo a loro e fanno la stessa cosa agli altri allora vai a spiegargli che A non è la stessa cosa B bisogna capire bene le dimensioni storiche di ogni singolo fenomeno adesso vorrei sono poi Marcello mi sgrida passare dalle questioni diciamo più teoriche a delle questioni di carattere più propriamente didattico ho detto prima che i nostri manuali ci lasciano spesso insoddisfatti almeno a me lasciano molto insoddisfatti quando si tratta di Shoah perché nella migliore dell'ipotesi come dicevo prima c'è una finestrella chiuso e finito lì allora quali materiali possiamo utilizzare e eh per compensare queste lacune e così per aiutarci in questo lavoro allora uno l'ho citato poco fa autofacendomi propaganda ma le fonti storiche sono fondamentali e abbiamo fatto con Alessandra che anch'io ricordo con tanto affetto mi piace ricordarla anche in questa sede questo lavoro proprio per mettere a disposizione delle fonti dei documenti chiaramente ci sono altri testi che però sono magari più voluminosi penso al volume dell'enciclopedia della Shoah della UTET che fra l'altro ci ha gratificato di avvalersi del del nostro libro e noi io Alessandra ed io eravamo molto contenti di questo voglio dire le fonti storiche in primo luogo darle proprio in mano agli studenti funziona secondo me poi abbiamo l'annosa questione di filmati documentari fiction una ricerca che è stata svolta qualche anno fa dall'Università Cattolica di Milano curata da Rita Sidoli e Milena Santerini aveva distribuito circa 190 questionari a studenti del primo anno di scienze della formazione su quanto avessero fatto nelle scuole medie superiori e inferiori come quando e in che modo avessero sentito parlare di Shoah e ne è uscito da questa ricerca che tutti gli studenti la stragrande maggioranza aveva incontrato l'argomento sia alle medie inferiori sia alle medie superiori però andando ad indagare meglio nei questionari risultava quello che io poi personalmente ho potuto rilevare più volte lavorando con dei colleghi facendo formazione che la formazione si era praticamente ridotta o ricondotta se vogliamo essere meno cattivi a un film 90% dei casi Schindler's List un libro per l'amore del cielo straordinario come se questo è un uomo ma non è una gran formazione fare esclusivamente questo io devo dire diceva stamattina David McNagy che oggi si fa più preparazione per gli incontri con i testimoni per i viaggi della memoria io mi auguro che lui abbia ragione la mia esperienza mi dice che le cose stanno in un modo un po' diverso che nella maggior parte dei casi io ho accompagnato i ragazzi non solo i miei anche quelli di altre scuole in visita in particolare ad Auschwitz e risultava che gli avevano posteggiati in Aulamagna quasi sempre in occasione del giorno della memoria a vedere Schindler's List e la preparazione era stata questa al limite appunto aggiungendo la lettura di Sequestro un Uomo quasi sempre alle medie cosa su cui alle medie inferiori intendo dire cosa su cui mi riservo di avere profonde perplessità allora sì documentari sì anche la fiction sono strumenti preziosi però mai isolati da una preparazione da un prima e da un dopo anche con gli studenti fra l'altro non perché ce l'ho qua di fianco ma mi permetto di dire che quello che hanno realizzato Liliana e Marcello la raccolta di testimonianze memoria è utilissimo per la didattica io non so se voi conoscete quella quel documentario non so come chiamarlo sono le testimonianze dei sopravvissuti c'è quella lunghissima di Shlomo Venezia io più volte ho utilizzato con i miei studenti la breve testimonianza di Ida Marcheria che ho avuto anche la fortuna di conoscere e su quella sua frase io non dovevo mai uscire da quel lager con gli studenti si è sviluppata un'ampia discussione perché gli studenti sempre chiedono perché dice così quella signora e su questo si può ampiamente discutere poi altri strumenti preziosi per la didattica sono le testimonianze di quelle filmate ho appena detto queste raccolte dal CEDEC in memoria ma anche quelle di Lanzman anche quelle sempre del CEDEC sugli ebrei Rodioti o sugli ebrei di Fossoli sono tutte molto utili preziose e oltretutto parcellizzabili perché io faccio l'insegnante come voi noi abbiamo anche una pressa di tempi di orari di ore e qui non c'è bisogno di vedere tutto il filmato si può isolare una testimonianza utilizzare quella se avrò tempo poi parlerò anche delle visite nei luoghi originali che sono una preziosissima occasione didattica a patto che ci sia un prima ci sia un durante ci sia un dopo che ci vedono protagonisti noi insegnanti perché non basta accompagnarli fisicamente sul luogo bisogna accompagnarli preparandoli prima stando al loro fianco e a fianco delle guide durante e soprattutto io vorrei dire stando al loro fianco dopo in un dibattito in un dialogo in un approfondimento comunque al caso di questo parleremo premetto che io ne ho fatti moltissimi di questi viaggi ho accompagnato tantissimi gruppi di studenti miei e non miei e quindi lo considero un'occasione importante ho qualche perplessità su quelle iniziative che coinvolgono centinaia 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 di ragazzi che hanno un loro pregio da un punto di vista simbolico commemorativo quel che si vuole sull'efficacia da un punto di vista formativo cognitivo didattico ho qualche perplessità perché se si va ad Auschwitz in 600 non lo so è molto meglio un piccolo gruppo col quale si è lavorato io ho fatto entrambe le esperienze quell'esperienza della perdonatemi l'espressione della carica dei 600 non la ricordo con particolare entusiasmo sia da un punto di vista logistico organizzativo sia proprio da un punto di vista didattico e formativo perché è difficile fare una didattica con un mare di persone ancora non si riesce neanche praticamente a tenerli come dire a gestire il gruppo anche se sia in tanti ecco volevo conclusivamente perché è un argomento a cui tengo molto dire che uno strumento preziosissimo per la didattica sono le fotografie e stamattina ho apprezzato molto glielo ho anche detto quanto ha ha detto David McNagy quando ha detto che le immagini conturbanti sono da un punto di vista formativo qualcosa che lui ha detto blocca il pensiero e come ricorderete ha detto che possono produrre assuefazione addirittura identificazione con il far carnefice diceva McNagy infatti quelle immagini che invece spesso abbondano in televisione quelle con le masse di cadaveri quelle più appunto conturbanti come le ha definite McNagy a mio giudizio da un punto di vista didattico non funzionano affatto io vorrei proporvi una sequenza che commenterò di immagini che io ho scaricato tutte da internet dal sito di Yad Vashem dal sito del museo dell'olocausto di Washington cioè non è che le ho perché ho qualche privilegio ci sono su internet basta scaricarsene allora queste immagini secondo me aprono delle possibilità di dibattito e di dialogo ben più ampie che non le immagini che abbiamo definito conturbanti le quali il dialogo a mio giudizio lo bloccano nell'emozione piuttosto che non nello sbandamento addirittura nella sua effazione questa immagine ci mostra dei ragazzi ebrei no? come dire in una classe e con una lavagna sulla quale sta scritto anche se si legge male l'ebreo è il tuo peggior nemico guardati dagli ebrei insomma credo che sia un'immagine molto più pregnante e dal punto di vista formativo e didattico di immagini come quelle che citavo poco fa anche questa è tratta da un libro che io ho saccheggiato per le mie lezioni un libro pubblicato negli anni 30 in Germania per i bambini per ecco qua per esempio si fa vedere un bambino che e la scritta sotto dice il naso degli ebrei è piegato sulla punta e assomiglia a un 6 dice la scritta è un sussidiario anche questo tratto da un libro sussidiario è un'immagine che a me è servita molto e penso che sarà chiaro il perché di qui a un minuto qui si vede un gruppo di ebrei ovviamente rappresentati nel modo più turpe e brutto possibile i quali si trovano davanti un cartello che dice che gli ebrei in quel luogo non sono desiderati e quindi li si invita non cortesemente ad andarsene mi inserisco allora questo è un sussidiario che esce con le leggi di Norimberga e per la prima volta io lo uso per far vedere la caratterizzazione biologica dell'ebreo perché vedete che i tratti degli ebrei per la prima volta in un sussidiario vengono definiti come immutabili da un punto di vista genetico ed è in questo sussidiario che c'è la contrapposizione tra l'ebreo e l'ariano infatti gli ebrei sono questi tre c'è proprio in due immagini io uso anche quell'altro dove c'è l'ariano adesso qua ne ho messo solo una ma ci sono altre immagini dove gli ariani sono tutti belli ordinati mentre questi sono un po' cenciosi ma la cosa significativa è che dal dal sussidiario alla realtà questa è la foto non sono mai riuscito a ricostruire di quale città esattamente fosse ma cartelli di questo genere c'erano non dico in tutte ma in quasi tutte le città tedesche con la stessa è la stessa identica frase che c'era in quel sussidiario gli ebrei qua non sono desiderati quindi dal sussidiario alla realizzazione pratica di quello che il sussidiario presentava anche la cartellonistica diciamo di propaganda che fu prodotta quando si attuò la campagna di sterminio delle persone disabili in Germania sono molto istruttive perché basta tradurre questo manifesto propagandistico e insomma si ha un utile sussidio per la discussione un malato ereditario così definito fino al raggiungimento del sessantesimo anno di età costa 50.000 e tu ne porti il carico tu o tedesco piuttosto che questo no un malato qui erbcranker viene sempre definito il malato ereditario costa 5.50 e con 5.50 Reichsmack una erbgesund cioè una famiglia ereditariamente sana ci può campare un giorno sono immagini a mio giudizio e poi sono immagini originali questa non è nessuna fiction ci sono anche colori anche questa immagine io ho usato spesso sul treno che porta i soldati nel 1939 allo scoppio della guerra verso la Polonia sta scritto andiamo in Polonia per letteralmente il verbo significa pestare gli ebrei e di fatto è poi quello che è successo queste sono immagini sempre del 1939 in Polonia dove si vede questo ebreo costretto a indossare gli abiti rituali e i tefillin della preghiera che peraltro sono stati spaccati e ce li ha in testa sul capo rotti e a recitare le preghiere sui suoi compagni che sono stati uccisi questa è un'immagine famosa sulla quale io a lungo a lungo nei limiti in cui l'estrettoio di cui parlavo poco fa questa immagine fu spedita a casa da un soldato tedesco dall'Ucraina da Ivanov esatto e è con scritto dietro iuden azioni in Vangorov come dire qualcosa di cui andar fieri mentre sta sparando una donna con un bambino in braccio e gli altri si stanno scavando la fossa questa è un'immagine che mi ha dato Marcello che mi è servita molto per le lezioni perché mostra le dimensioni dei campi di sterminio diciamo di sterminio puro che sono solo quello come Bergez Sobibur e Treblinka paragonate per non parlare poi di Helm o Kulmhoff che dir si voglia paragonate a quelle di Auschwitz che tecnicamente potremmo definire un campo misto poi hai sbagliato lì Birkenau esattamente perché in realtà Auschwitz uno non ha come avete visto stamattina nella relazione di Marcello delle dimensioni gigantesche ma Birkenau sì e questo serve molto perché anche le ricostruzioni virtuali della struttura dei campi virtuali per esempio come quella che ha fatto Marcello nella destinazione Auschwitz con Lilli e con Lilliana certo che penso conosciate che cosa sono due cdrom no Marcello che oltre a dare tutta una serie di informazioni storiche hanno a mio giudizio una preziosissima ricostruzione virtuale della struttura delle macchine di messa a morte cioè delle camere a gas molto utile così come sono molto utili queste piantine questa quella che ti dicevo che ho trovato su un sito olandese dedicato al campo di Sobibor l'ha fatto un sopravvissuto che si chiama Shelvis ecco Shelvis e questo rende benissimo l'idea di come fosse la struttura la ricordava oggi Marcello non voglio ripetere quanto ho già detto semplicissima di un campo di sterminio una rampa di arrivo uno spiazzo per liberarsi dei vestiti lo schlauch e il tubo che cosiddetto che immette direttamente nelle camere a gas e il come dire e i luoghi di cremazione all'aperto o fosse comuni perché questo dà l'idea di quello che è stato il meccanismo dello sterminio anche proprio la semplicità di un campo di sterminio rispetto ai campi di concentramento rispetto alle strutture più ampie più complesse prima di concludere una cosa mi inserisco spesso e volentieri io ho visto la mia esperienza anche io sono partito come insegnante tanti 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 anni fa ma ho sempre mantenuto relazione con altri insegnanti anche ex colleghi e così via e una delle cose che io rimprovero agli insegnanti è che quasi con una specie di piacere masochistico e paranoico ve lo dico proprio tendono a dire che ai ragazzi che loro sono molto lontani dalla tecnica dalla tecnologia da queste cose come se l'essere bravi da un punto di vista così tecnico fosse quasi quasi una colpa andesse a toccare il cotente intellettuale che è una roba folle perché un insegnante che dice e l'ho visto tante volte che dice agli utenti guardate questo è un videoregistratore mi ricordo quando c'era io non so nemmeno come si fa ad accendere ho perso tutta la credibilità tutta ve lo dico tutta non mezza tutta non può un insegnante deve essere sempre lì anche se non lo sa usare ma deve essere sempre il faro di attenzione dello studente non fa niente intanto non lo dici intanto dici accendimelo e spegno non io con piacere con un auto piacere pazzesco dice una roba del genere uguale con con il pc allora il ragazzo ha una visione come dire ha una un coté visivo diversissimo dal vostro perché è nato con altre coordinate per carità eh esattamente però non ha le vostre coordinate gli mancano completamente quindi voi dovete dirgli come lui con la sua tecnica deve interpretare subito le immagini che lui vede e che sa gestire meglio di voi ma voi dovete dirgli come lo deve fare e questo vostro compito voi non dovete mai abbandonarlo mai se voi vi distanziate in questo modo un po' dal non funziona veramente non funziona dovete essere duri su questo un mio consiglio eh c'è un filino forse di snobismo pseudo intellettuale da parte nostra mi ci metto anch'io eh per l'amor del cielo per cui si fa quasi un vanto però adesso ci hanno più o meno forzato fra l'IM registri elettronici dobbiamo dobbiamo per forza modernizzarci volenti o nolenti io avrei anche finito Marcello perché sentiamo qualche grazie perché anche confrontarci sul poi oltretutto domani avremo anche la possibilità di eh sentire quelli che hanno fatto un'esperienza didattica particolare no verso verso la fine sì e quindi affronteremo ancora questo ma se avete già qualche domanda da porre al professor pace lei è d'accordissimo mi fa piacere scuola primaria questo è difficile mamma mia per noi sì però anche qui dovremmo fare un discorso con le scuole primarie prima o dopo sa perché non lo le dico non affronto il tema perché mi ritengo totalmente ignorante su questo tema e non adatto alla addirittura a esprimere un parere io vorrei imparare da voi che insegnate alle eh ma non è facile guardi l'abbiamo visto io sono andato a seguire un'esperienza in Israele al 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 in un kibbutz dedicato a Terezin dove si fa solo quello è difficilissimo anche loro sono in dubbio ogni volta su cosa fare come farlo e anche attraverso i disegni dei bambini anche perché quei disegni rappresentano cosa in che modo capivano la realtà non la capivano è difficilissimo che cos'è Terezin l'avete sentito da Klein stamattina che mi dice un passaggio quindi non è la cosa che finisce lì mentre i disegni fanno vedere quella non è facile non è facile credo che ascolterò con grande interesse quello che ci racconterete perché la penso come Marcello io sono un po' disorientato di fronte a a questo sì no niente volevo solo fare una riflessione ad alta voce potremmo approfittare anche di questo seminario sulla Shoah che è una novità assoluta per noi i solani insomma partecipare e cambiare scambiare queste riflessioni di grande interesse anche per creare per esempio un curriculum si potrebbe creare un curriculum con delle indicazioni didattiche mirate per lavorare e usando un po' gli stessi parametri insomma un po' come facciamo per le discipline o per le materie insomma nelle varie scuole sarebbe una bella anche opportunità anche per la scuola primaria uno scambio di buone prassi perché tutti lo facciamo cioè proprio il giorno della memoria che è stato istituito chi più chi meno ha operato in questo settore anche con un'autoformazione e improntandosi così un po' anche alla buona certe volte per cui ho sentito di esperienze anche negative devo dire quando si sollecitano eccessivamente dei ragazzini con un'età non idonea a ricevere certi contenuti quindi chiaramente si possono anche creare dei problemi per cui dipende molto anche dall'insegnante cioè lasciato l'insegnante molto solo sotto questo punto di vista quindi volevo dire questo sarebbe bello condividere cioè l'idea mia era proprio di questo seminario di raccogliere sia le iniziative anche di ciascun docente ma anche come diceva il professore pace che ha dato delle indicazioni didattiche per noi preziosissime proprio come fare proprio la raccolta dei dati storici anche in un curriculum visto che c'è il miurre anche di mezzo sarebbe carino proporre anche al miurre questo assolutamente d'accordo indicazioni per noi da parte vostra le più preziose sono quelle relative agli esperimenti falliti sembrerà incredibili voi ci raccontate sempre che belle cose che fate benissimo siamo contenti ma a noi interessa invece quando le cose non sono andate bene a noi interessa moltissimo quelle perché è da lì che noi impariamo e anche che possiamo domani darvi indicazioni diverse e molto più come dire sì e molto più utili proprio per voi e dalle esperienze negative questo un pochino ma anche in Italia non lo so in un dibattito pubblico in Germania le critiche arrivano subito subito è una roba ed è normale mai una volta invece che qui quando anche io faccio una relazione anche altri che riceviamo delle critiche io vorrei riceverle per capire cosa non funziona se io abbiamo noi il microfono su di senta io volevo dire una cosa che è emersa più volte e la volevo dire in realtà anche quando ha parlato il professor Megnagi nel senso che ed è il problema che ha sollevato adesso la collega io insegno nelle scuole superiori e penso che qui per lo più siamo docenti di scuole superiori quando ecco il professor Megnagi parlava stamattina del rapporto tra immagini e realtà e i ragazzi e soprattutto i più piccoli confondono le immagini con la realtà adesso emerge il problema appunto di come porre la cosa ai bambini più piccoli io dalla mia esperienza dico che quando arrivano al superiore i ragazzi sono già formati hanno già delle loro idee la questione delle immagini loro arrivano al superiore hanno visto migliaia milioni di immagini per cui il lavoro che si dovrebbe fare davvero è sulla scuola materna sulla scuola elementare cioè dei corsi di formazione andrebbero fatte i docenti delle scuole materne e delle scuole elementari spiegare la differenza tra la Shoah e il conflitto israeliano-palestinese è una cosa che devono assimilare i ragazzi crescendo cioè quando arrivano da me a 18 anni questi hanno già delle idee sbagliate e poi a scuola una cosa che si dice spesso qui non è stato detto noi in realtà è sempre banale e sempre retorica ma è così abbiamo tante cose da fare abbiamo tanti argomenti di cui occuparci non è che possiamo dedicare un anno allo studio della Shoah per cui l'argomento viene trattato anche velocemente e rapidamente quindi discutere con tutti gli strumenti che voi ci avete fornito stamattina fare un lavoro così far cambiare idea ad un ragazzo di 16, 17, 18 anni con il poco tempo che abbiamo è molto difficile bisognerebbe lavorare meglio con i ragazzi più piccoli con i docenti delle scuole più basse comunque le confesso una cosa questo corso era fatto per gli insegnanti delle scuole superiori ecco poi devo dire che gli uffici regionali hanno fatto un'altra cosa no ma io dico è proprio necessario sì sì per noi è importante perché non abbiamo proprio preso considerazione esatto ma doveva essere cioè non è che doveva essere allora io vengo vengo dalla Basilicata ieri sera mi ero pentito del viaggio che avevo fatto invece me ne vado molto contento non è valsa la pena perché per arrivare a Palermo dalla Basilicata ci vogliono 7-8 ore 9 ore insomma dipende dai ritardi dei mezzi pubblici faccio molto prima ad andare a Milano a seguire un corso a Milano a Berlino piuttosto che arrivare a Palermo insomma e quindi purtroppo questa è l'Italia ecco però dicevo doveva essere proprio l'inverso cioè bisogna fare l'inverso lavorare molto sui docenti delle scuole elementari e delle scuole materne perché poi diventa molto più difficile è come un bambino che impara a camminare zoppicando se non viene curato in tempo da adulto che si fa? zoppicherà tutta la vita comunque lavorare sui bambini è complicatissimo e oggi si tende a lavorare mi dicevano alla proprio la professoressa Sidoli della Cattolica quella con cui abbiamo lavorato grande pedagogista con la Milena Santerini che adesso è parlamentare fra parentesi ma grandissima insegnante pedagogista della Cattolica di Milano che in fondo loro tendevano negli ultimi corsi di aggiornamento insegnante che abbiamo fatto insieme a lavorare sul concetto di separazione da un punto di vista psicologico solo su quello che poi era la separazione a vari livelli e si poteva lavorare su questo concetto in varie forme anche con dei bambini perché con i bambini la separazione è la separazione dalla famiglia la separazione per arrivare all'ultimo grado di separazione quello più forte che è quello della vita cioè l'uccisione ma in questo caso non si arrivava a tanto con i bambini delle elementari o si faceva in un modo quasi simbolico così via quindi molto difficile e anche in Israele lavoravano su concetti di questo tipo ma attraverso dei c'è un bellissimo museo anzi vi consiglio chi va in Israele vada non solo a Yad Vashem ma vada a Lohamea Getot che è il Lohamea Getot che è un kibbutz è un museo bellissimo fatto dai sopravvissuti dei polacchi Vaksavia no non solo di tutti i ghetti assolutamente tutti i ghetti tutti i ghetti sono i resistenti dei ghetti in genere i partigiani ebrei e accanto c'è un forse l'unico che abbiamo visto al mondo museo solo per i bambini bellissimo solo per i bambini dove non c'è un'immagine unia una che è un'immagine reale una fotografia vera ma solo delle ricostruzioni e lì al limite si arriva la ricostruzione di un ghetto il massimo a cui si arriva per far vedere la separazione proprio in questo l'ultimo grado di separazione è il viaggio cioè che poi i bambini capiscono che uno non tornerà più senza capire come si muore e così via è su quello che bisognerà ragionare forse ma anche qui anche noi dobbiamo prepararci e dovremmo avere più psicologi su questo tavolo per parlare di questo tema noi l'abbiamo messo molto dal punto di vista storico perché avete visto che da un punto di vista storico ci sono molte cose ancora da delineare e da studiare quindi noi volevamo darvi in questo caso una grossa formazione storica e i nomi che ci sono comunque ci serviranno a questo e alcune informazioni come una didattica una sul negazionismo che è semantica addirittura e una di carattere più psicologico e sociologico che è quella di McNagy domani avremo anche il taglio dell'internet e ancora altre considerazioni di carattere storico ecco questo è il taglio un po' però se da qui in poi si apre un altro spiraglio di comunicazione tra noi e voi dobbiamo andare avanti certo che anche gli uffici regionali dovrebbero come minimo darci un po' di supporto ma non tanto in soldi cioè i soldi servono più a voi per i viaggi per queste cose perché già prendete niente non è che si può lavorare è sempre gratis non funziona così insomma da parte nostra cercheremo di fare tutti gli sforzi perché i nostri istituti ci mettono a disposizione piccolissimi fondi che ci permettono di venire guardate parliamoci chiaramente noi non lavoriamo per soldi ve lo dico chiaro e tondo uno storico non lavora per soldi cioè Klein non c'è Klein che è di un livello stratosferico ha un normale contratto al museo di Vance e prende in un livello in un livello in un livello in un livello che ci mettono a spedio